Amici di contatto, le nostre telecamere approdano al Planet Miami, ospite d'onore, Tony Colombo. Non ci resta che metterci comodi e via con le immagini! I don't mean to judge, but when you read your speech it's tiring, enough is enough. I'm covering my ears like a kid, when your words mean nothing I go la la la. I'm turning up the fire when you sleep, cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock and I go... Amici di contatto, siamo qui in compagnia del Magico Michele. Magico Michele, questa sera un ospite d'eccezione, Tony Colombo. Siamo qui, siamo aspettati a Tony Colombo che arriva. Tutte le note sono pazze, abbiamo fatto un altro sold out. Il Planet oramai è una garanzia. Planet Maria, il nostro vendite che è Evolution, il nostro domenica Highlight Sunday. E adesso la festa delle note siamo qui. Sei tu, ci sono io, sono gli amici di contatto, gli amici a casa. Siamo sempre in contatto? Siamo sempre in contatto. Siamo sempre in contatto. Amici di contatto siamo in compagnia di Tony Colombo. Tony, come va? Teniamoci in contatto sempre, sto bene, sono felice di stare qua stasera, grande festa, per me è una delle tante di stasera. Sono contento di aver incontrato al X Planet tantissimi amici, Massimo il proprietario, Nunzio che ha organizzato, ma tante persone che voglio bene. E sono contento che ci sia contatto, perché io sono un appassionato. E noi siamo contenti di trovarti qui? Ci sono tanti progetti, sì, ci sono tanti progetti, sì, c'è il Palapartenove, il 30 di marzo ci sarà questo concerto al Palapartenove di Napoli, ore 18.30 e poi la sera andiamo a vedere il Napoli, tutti quanti, ovviamente Napoli Juve, bellissima partita. Il 30 ci sarà questo concerto e poi prossimamente i primi di aprile penso uscire al nuovo disco, il disco che ovviamente porterà le canzoni per tutta l'estate. Perfetto, quindi tantissime sorprese. Non ci resta che salutare gli amici che ci guardano da casa, con il nostro magico saluto. Rimaniamo in contatto. Toni ci ha raggiunto anche Nunzio Quaglietta che ti ha voluto fortemente, vero Nunzio? Sì, sì, sì. Nunzio è un grande organizzatore, uno che fa tantissime cose belle e stasera, come sempre, ha portato al termine una grandissima serata, perché è la festa della donna. Grazie a Nunzio. Insieme a DJ Saxo Sponto, 3, 2, 1, ciao contatto! Salutiamo Nunzio Quaglietta, alla nostra maniera, ciao contatto! 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 Contatto! Ciao contatto! Auguri a tutte le donne! 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 Sei bellissima, solo adesso riesco a dirti sei bellissima, finalmente non sarò mai più invisibile, quante volte ho fatto il pazzo qui per te. sei bellissima, sei bellissima, non potevo più senza dirtelo, sei l'inizio della vita che vorrei. Se la vita ci darà l'incertezza di un'età, non ti lascerò, ti proteggerò, sarò l'uomo più forte che al mondo può esistere mai. Magistere mai! Magistere mai! Magistere mai!